salve sono fabrizio di extrasound vi ringrazio per seguire il nostro canale e sono felice di presentarvi i prodotti che esponiamo nelle nostre sale hi-fi questa sera apriamo il nuovo lettore ai basso il dx320 ormai periodicamente apriamo facciamo l'unboxing del lettore ai basso vi ricorderete chi di voi ha seguito i nostri video il dx300 il dx240 il dx220 il dx200 fino a partire dal dx50 è un lettore con delle caratteristiche veramente incredibili sia per quanto riguarda la parte di conversione se non ricordo male scusate che anche per me è nuovo ho letto fino un attimo fa tutte le caratteristiche ha comunque un dual DAC della ROM ed esattamente leggo il BD34301 EKV ha delle caratteristiche incredibili sia per quanto riguarda l'abbattimento del rumore tutte le caratteristiche di conversione sono veramente pazzesche andatele a vedere sul nostro sito perché sono rimasto basito anch'io che ormai di lettori veramente ne ho aperti tantissimi stessa cosa per quanto riguarda il processore parliamo di un esattamente ve lo leggo un Qualcomm Snapdragon 660 octa core veramente incredibile comunque procediamo all'unboxing ecco qua il nostro lettore come vedete chi di voi ha visto l'unboxing del dx300 per quanto riguarda il formato è esattamente lo stesso stesse dimensioni la scatola è sempre molto ben fatta dai basso ecco qua il nostro lettore veramente molto bello ben fatto ok vi do un attimo di descrizioni da questo lato abbiamo come nel dx300 la fessura per andare a inserire la micro sd e supporta sia le sd hc che le sd xc scusate ripeto se leggo ma non voglio darvi informazioni errate se andiamo a guardare nella parte superiore invece abbiamo la usb c e l'ingresso coassiale ora per quanto riguarda questi due queste due connessioni parliamo di digitale e nella parte usb come in tutti i lettori il la connessione usb ha diverse a diverse funzioni sia per quanto riguarda il collegamento al pc che sia pc o mac in entrambi i casi può essere utilizzato per utilizzare il dx300 come dac esterno può essere utilizzato deve essere utilizzato per ricaricare il lettore e per quanto riguarda questa questa parte vi anticipo che all'interno del dx300 120 ci sono due batterie una per la parte digitale se non ricordo male 4000 mAh giusto ed una per la parte analogica quindi per l'amplificazione 2000 mAh tutti e due si caricano con lo stesso cavo non come nel dx300 max che avevamo una connessione di alimentazione tramite usb per alimentare la batteria digitale e una invece tramite un ingresso a lato con trasformatore esterno per alimentare la parte analogica quindi unico cavo per alimentare caricare ambedue le batterie se invece andiamo a vedere a ecco mentre invece per quanto riguarda l'ingresso coassiale nel momento in cui vogliamo utilizzare il lettore come mero lettore digitale quindi senza utilizzare la parte di conversione utilizzando un cavetto con jack da 3,5 e dall'altra parte un rca o in base alla vostra tipologia di connessione in quest'altro lato invece abbiamo accensione tenendolo premuto e volume quindi ruotandolo chiaramente mentre gli altri tre tasti sono i classici tasti di avanti indietro play e pausa comunque programmabili tramite il sistema android vi ricordo che abbiamo l'android 11.0 se andiamo invece nella parte inferiore noterete che come in tutti gli altri ai basso abbiamo il modulo d'amplificazione che è intercambiabile in questo caso monta il modulo amp 11 mk2s abbiamo le tre connessioni quindi 4,4 mm 2,5 mm e 3,5 mm tutti e tre gli ingressi possono essere utilizzati sia per il collegamento delle cuffie auricolari o per andare a collegarci a un impianto hi fi esterno quindi possono diventare delle uscite di linea o possono essere utilizzate come uscite per la cuffia questo qui lo si lo si va a impostare tramite software ok bene detto questo io andrei ad accendere il nostro lettore vado a togliere la pellicola che è diciamo l'indicazione quando il lettore è nuovo quindi tutti i lettori nuovi hanno questa pellicola una volta tolta praticamente è quasi impossibile rimetterla senza evitare che vengano delle bolle ok comunque sopra l'etichetta ve la metto qui come vedete vengono specificate un po' di caratteristiche che vi ho detto quindi il processore il convertitore la ram ecco 6 giga di ram e 128 giga di rom ok la dimensione dello schermo 6,5 pollici e abbiamo una risoluzione di 1080 x 2340 quindi una risoluzione veramente ottima lo vado ad accendere tengo premuto il tasto fino a che non compare la scritta in basso audio gli diamo il tempo di caricare il software si vede matteo ok intanto vi dico allora per quanto riguarda la parte di amplificazione abbiamo un circuito d'amplificazione bilanciato a quattro canali altre cose che non vi ho detto supporta la carica rapida sia per il qc 3.0 che per il pd 3.0 per quanto riguarda le risoluzioni ve le ho dette comunque nella parte digitale sia la osb che la coassiale per il pcm 32 bit 384 kHz mentre per il dsd 128 x mentre per l'ascolto tramite cuffia riusciamo ad arrivare per il pcm a una risoluzione 32 bit 768 kHz mentre per il dsd arriviamo fino al 512 x è comparsa la prima schermata dove andiamo a scegliere la lingua ok adesso io sono a rovescio però andiamo a scegliere l'italiano eccolo qua quindi next e già è diventato tutto in italiano quindi data e ora andiamo avanti ma è la classica sono le classiche schermate che trovate anche nei smartphone qui ci chiede di aggiungere la rete ecco come vedete sono comparse tutte le rete wifi che abbiamo qui in azienda quindi andiamo a scegliere la prima che è la nostra mi chiede la password adesso non sto a digitare andiamo avanti facciamo nulla ok salta poi lo faremo noi una volta fatto quindi setup sarebbe completato ecco qua la prima schermata e compaiono tutte le nostre iconcini che compaiono anche nei smartphone android quindi browser chrome l'orologio le impostazioni e via dicendo queste altre ultime due icone che vedete l'ultima sinceramente anch'io non so cosa sia mentre la penultima è l'app apk pure dove potete andare a scaricare tutte le app aggiuntive cioè potete benissimo scaricare l'app di tidal di kobuz o di altri player che trovate in rete potete veramente caricare qualunque cosa qui giù in fondo invece vedete l'app del software proprietario di ibasso è un software che viene chiamato mango ed è basato su linux è un software chiuso mentre invece android come ben sapete è aperto quindi se io faccio partire il nostro player ecco qua la schermata del nostro player chiaramente non avendo inserito una micro sd non ho la possibilità di andare a vedere cosa di far partire qualche brano ma digitando qua su in alto quest'icona compariranno tutte le possibilità però questa è una parte che demanderei al nostro sito perché ci sono veramente tantissime cose che possono essere settate la possibilità di vedere la musica tramite artista tramite tipologia tramite album insomma bene o male come tutti i lettori che ci sono in commercio adesso torniamo facendo questo lavoro al nostro sistema scusate non mi ha preso al nostro sistema android ok due parole giusto per le iconcine che appaiono su qui in alto dove abbiamo partendo dalla mia destra la indicazione del volume quindi dove vedete il simbolo dell'altoparlante 29 se io vado ad agire sulla rotella oltre che comparire la barra di fianco vedete aumenta e diminuisce l'intensità del volume arriviamo fino a 150 passi le altre due letterine sono relative ai filtri che sono all'interno del lettore questo chiaramente demando a un altro momento passiamo dall'altra parte dove abbiamo il simbolo del bluetooth e il simbolo del wifi che in questo momento compare vuoto perché non abbiamo settato la rete comunque abbiamo il bluetooth 5.0 per quanto invece riguarda il wifi abbiamo il 5G scusatemi mi mangio le parole il 5G con due antenne mimo subito a fianco l'indicazione delle due batterie quindi il 100% per la batteria analogica e il 92% per la batteria digitale e subito dopo per finire l'orario bene io a questo punto direi che lasciamo il lettore sulla scrivania e andiamo a vedere cos'altro c'è nella nostra confezione si solleva la parte dove è appoggiato il lettore anzi facciamo questo lavoretto lo andiamo a rimettere nel suo alloggiamento e c'è la scatola degli accessori ok bene abbiamo là all'interno la custodia per il nostro lettore andiamo ad aprire scusate ma non ho le unghie ecco qua ok e vediamo questa volta come hanno fatto la custodia lo fanno sempre in pelle anche questa volta stessa cosa togliamo il polistireno di protezione ecco qua rimangono libere chiaramente tutte le nostre porte a parte la fessura dove c'è la dove va inserita la micro sd del resto rimane tutto operabile ok il volume i vari tasti e gli ingressi inferiori ok andiamo a vedere nella scatola degli accessori invece che cosa troviamo tolto tutto ok allora prima bustina con le protezioni ce ne sono ben le protezioni per il display eh vediamo quattro protezioni caspita notevole la piccola guida per l'accensione chiaramente è una guida veloce chiamiamola così dovevano descrivere in inglese un po' tutte le caratteristiche che vi ho detto e i primi passi il manuale completo lo trovate il manuale completo completo scusate lo trovate sul nostro sito lo potete tranquillamente leggere sul nostro sito ma anche scaricare l'altro cartoncino è la garanzia con dentro il numero seriale e qualche informazione ok sempre in inglese chiaramente cavetteria il cavetto per velocizzare il rodaggio come tutte le elettroniche anche i lettori ai basso hanno bisogno di essere rodati anzi noterete un grandissimo cambiamento una volta rodato vi consiglio di utilizzare questo cavetto potete utilizzarlo lasciandolo acceso durante la notte e facendolo andare magari con un brano in ripetizione continua e collegando il cavetto nell'uscita da vediamo due e mezzo questa volta di solito era quello da tre e mezzo nell'uscita del due e mezzo lo inserite selezionate un brano o un album fate voi e lo fate andare in continuo tranquillamente durante il giorno potete utilizzare ad ascoltarlo ma durante la notte fate questo lavoro così velocizzate il rodaggio l'altro cavetto invece è per utilizzare la porta coassiale nella parte superiore è un cavetto molto corto lo so è sempre ai basso ha sempre messo questo codino chiamiamolo così quindi inserimento nella parte sopra coassiale e potete collegare l'ai basso a un ingresso coassiale in una vostra elettronica oppure con un altro cavo più lungo anche a un apparecchio in auto insomma qualunque cosa abbia abbia la possibilità di essere collegato tramite digitale nell'altro nell'altra bustina invece abbiamo il cavo usb di connessione per poter utilizzare l'ai basso come DAC esterno o per poter caricare la batteria chiaramente in un caricatore usb o se no per poter collegare l'ai basso a un pc e andare a inserire la musica i vostri file musicali dentro la micro sd io solitamente lo inserisco direttamente la micro sd la inserisco direttamente nella fissura del mio del mio apple e vado a caricare la musica che voglio bene direi che abbiamo visto tutto quello che c'è che c'è dentro la confezione vi ho dato un'informazione generale sulle proprietà sulle caratteristiche del lettore vi rimando nuovamente sul nostro sito dove troverete approfondimenti sul nostro dx320 a la prossima